Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Allora, come va? Andate bene le vacanze di Natale? Passato un buon Natale, una vigilia, Santo Stefano anche oggi? Invece comincia la settimana con questo 27 dicembre, in cui io spero già di essermi riempito di tortellini durante le vacanze. Se invece ti state ascoltando da altre parti d'Italia, mangiate i tortellini, mi raccomando. Se non siete riusciti a Natale, fatelo a Capodanno. Benissimo, oggi non sono da solo, anzi, sono in presenza di tre importanti esponenti di una materia leggermente diversa dall'astronomia. Quindi mi sento un pochino in soggezione. Oggi, signori, parliamo di astrobiologia. Quindi, sigla e poi cominciamo. Allora, allora, io comincerei subito presentando i miei ospiti. Alla mia sinistra, anche se questo è un podcast, quindi non mi riuscite a vedere parlamente, ho Cinzia Giannaroli, professoressa del liceo Tassoni di Modena, anzio scientifico, mio ex nemico, perché io ho frequentato l'altro liceo di Modena. Prego, si presenti pure. Ciao a tutti, io sono Cinzia Giannaroli, appunto insegno chimica e biologia al liceo Tassoni di Modena. Sono una biologa di formazione e in particolare specializzata in botanica. Benissimo, intanto la ringrazio già di essere qui presente. E poi proseguiamo sempre in senso orario, quindi seguendo il mio orologio. E andiamo su Sara Cavallini, studente a Bologna di biotecnologia, dico bene? Sì, ciao a tutti, sono Sara, come hai detto tu studio biotecnologia a Bologna e ho studiato al Selmi a Modena, quindi è già qualche anno che studio la biologia e le biotecnologie e non sono per niente un'esperta, però appassionata di astrobiologia. Più esperta di me. Benissimo. Poi andiamo per ultimo, ma non per importanza. Lorenzo Pelloni, nuovo dottore in fisica appena laureato giusto da qualche giorno e io le lascio a lei la parola. Non ho ancora la polvere sopra. Ciao a tutti, sono Lorenzo e sono appunto appena laureato in fisica. Per laurearmi ho dovuto fare poi anche una tesi sulla ricerca dell'acqua su Marte con tutte le storie annesse sulla presenza di vita o meno e quindi diciamo che mi sono informato molto sull'argomento che mi ha sempre appassionato e quindi sono qua con questi referenti. Esatto, appassionati professori. Qui abbiamo tutto, il planetario, astronomia planetario di Modena non vi lascia mai in sospeso. Quindi cominciamo con l'argomento di oggi in cui io non so assolutamente niente. La gente pensa sempre che io sia massimo esperto di nulla, perché banalmente non sono di nulla. Quindi noi oggi cominciamo a chiederci che cos'è l'astrobiologia. Io lascio già a voi la parola, perché questo sarà il mio compito, farvi domande, perché io di questo non ne so assolutamente nulla. Prego, chi vuole cominciare? Vedo tutti molto, molto, non a loro agio, quindi prego con... che cos'è l'astrobiologia? Lollo, dimmi. Che scansa fatica. Beh, l'astrobiologia è una scienza, innanzitutto. È una labranca dell'astronomia che si occupa appunto di andare a, prima di tutto, capire che cosa andare a cercare nell'universo, poi come cercare la vita nell'universo e con tutte le questioni annesse. Quindi quali sono i pianeti migliori su cui cercare la vita, questi pianeti che tipo di vita potrebbero sostenere, ci sono dei legami tra le stelle e la vita sui vari pianeti, serve una stella, non serve una stella, perché anche quella è una domanda un po' così, se anche ci sono dei rapporti tra la posizione della galassia e il sistema solare e la vita, quindi tutti i possibili parametri possibili e immaginabili per studiare appunto la vita oltre alla Terra. Qualcuno vuole già aggiungere, perché prima, noi prima di cominciare a registrare abbiamo già avuto un lieve dibattito e c'è stato un po' già di discussione, cioè che cos'è vita? E una cosa che mi ha interessato, leggendo i vostri appunti mentre giravano per il nostro documento online, che questa domanda cerca di rispondere a una domanda molto filosofica, molto aperta, che c'è qualcun altro in questo cielo stellato che noi guardiamo ogni sera, a parte quando non c'è la nebbia come oggi. Quindi, che cos'è la vita? Cioè, noi banalmente cerchiamo qualcos'altro nell'universo, ma riusciamo a definire questo qualcos'altro? Avete consigli per i nostri ascoltatori, banalmente? Beh, guarda, ho visto le facce, metto avanti due questioni. No, perché al momento la scienza ha questa bellissima domanda del che cos'è la vita, anche banalmente cos'è la vita sulla Terra, risponde con una bellissima risposta che è boh, non lo sappiamo ancora benissimo. Nel senso che, sembra una cosa scontata, uno dice la vita. All'elementare mi hanno detto che un essere vivente è qualcosa che, innanzitutto, cos'è un essere? Sarebbe già una bella questione. Vabbè, quando torniamo su cos'è Euclide, la scuola dei greci. No, perché uno dice, dopo vediamo, se capite l'argomento. No, nel senso che uno all'elementare aveva che doveva nascere, doveva nutrirsi, crescere, riprodursi e poi morire. Solo che, banalmente, anche, diciamo, nella letturatura scientifica, andando più in là dell'elementare, anche la riproduzione sembra essere il cardine, che solo gli esseri viventi si riproducono. Ma, banalmente, se voi andate in un garden center, probabilmente tutti i fiori che vedete, essendo dei libri di, poi ci dirà meglio la professoressa, essendo dei libri di diploidi, triploidi, tetraploidi, eccetera, non sono in grado di... C'è una parola abbastanza complessa. No, poi andate a cercare, io vi dico le parole, così andate a cercare, googlate e vedete qualcosa, approfondite. No, nel senso, sono delle cose che non si possono poi, non fanno dei semi, quindi non possono riprodursi. Banalmente anche il mulo, che fin da piccoli sappiamo che è l'incrocio tra l'asino e il cavallo, non si riproduce. Quindi la riproduzione già non è un tassello fondamentale. Quindi ci rimane il nascere, il crescere, il nutrirsi e il morire, ma secondo certi studiosi ci sono delle argille che lo fanno e quindi non sembra sufficiente. Delle argille? Delle argille che, definendo opportunamente crescere, crescere, vabbè, a crescimento, c'è del materiale che s'amassa. Nutrirsi, ci sono delle reazioni chimiche che uno dice coinvolgono anche a volte delle molecole organiche, che poi vediamo organiche, cosa vuol dire, che non vuol dire biologiche, però anche lì è tutta questione di definizioni. Alla fine certi esperti dicono, eh ma allora anche l'argille. Però è interessante. Lei, professoressa, intanto, posso dare del lei, del voi, cosa preferisce? Eh sì, anche non so come. Del tuo, va bene, grazie. Cosa ne pensi? Ma sicuramente bisogna ragionare sul nascere, sul morire e come è stato detto, anche in questo caso, ad esempio la definizione di morte è una definizione che in biologia resta assolutamente fumosa, no? Sappiamo che con la criptobiosi, ad esempio, ci sono organismi che diventano sostanzialmente immortali, alghe, batteri, i famosi orsetti d'acqua, i cardigradi, no? Che sono il nostro, la nostra frontiera della biologia. Molto, molto interessante. Infine, dai, sentiamo anche l'attuale esperta, la studiosa di biotecnologie. No, allora, io ho fatto virologia l'ultimo semestre che ho studiato e per esempio c'è questo dibattito dei virus che non sono esseri viventi. A me è stato spiegato che un essere vivente, per essere definito essere vivente, deve essere in grado principalmente di replicarsi da solo. Invece, i virus hanno bisogno di un ospite per sopravvivere e quindi è proprio questo fatto che ancora non c'è una definizione di che cosa è vivo, che cosa non è vivo. E io, come biotecnologa, che noi studiamo più le molecole, ho dato un po' una definizione mia. Cioè, più che riprodursi è replicarsi, quindi fare, diciamo, quello che è la replicazione del DNA e produrre le proteine che ci danno la possibilità di vivere, perché alla fine noi siamo proteine. Noi potremmo chiudere già la puntata così con noi siamo proteine. No, è molto interessante perché ovviamente io, leggendo di fantascienza, leggendo così e avendo nella mia mente alcuni film un po' trash degli anni 80, poi visti negli anni 2000, mi immagino proprio il classico Mino Verde che viene con il cranio scoperto, il cervello estremamente espanso, che conquista la Terra. Però, quindi mi state già dicendo che noi potremmo già essere banalmente entrati in contatto con forme di vita esterne alla Terra con un po' di dibattito su che cos'è la vita. Quindi, banalmente, potrebbero essere anche soltanto organismi, non so neanche come definirli, non conoscendo la terminologia, che vengono però dall'esterno. Questo mi sta veramente tantissimo intrippando, però, cominciamo. Diciamo che potremmo cominciare come ricerca dell'astrobiologia, quindi di una forma di vita esterna alla Terra, banalmente dal sistema solare. Cioè, noi partiamo da quello che abbiamo più vicino, perché ovviamente è dietro l'angolo, invece che andarci su Andromeda, che ci potremmo mettere un po' di tempo, e ci conviene cercarlo forse su Marte, su Venere, sui satelliti di Giove. Voi che dite? Beh, parto io perché mi sento preso in causa da questa domanda, nel senso che l'altro giorno ho finito di fare un tirocinio con il professor Rosè, che è quello che nel 2018 tutti i giornali titolavano che aveva trovato l'acqua su Marte. Venuto anche qua al Planetario. Cosa? Venuto anche al Planetario, esatto. Se non siete venuti al Planetario, peggio per voi che non la vedete. Che bello che oggi non devo fare io la pubblicità. No, fatto sta che, appunto, Marte, diciamo, la prima cosa che ci viene in mente è Marte, come la prima frontiera dell'astrobiologia. Ci sono delle bellissime grafiche, però, online, che uno può andare a vedere, dove ci sono tutti i vari parametri della probabilità di trovare vita su un pianeta. Si guarda la temperatura, la pressione superficiale, perché se non c'è atmosfera già crollano un po' di parametri, delle criterie. Poi, vabbè, la fonte di energia, che potrebbe essere il pianeta oppure il sole, eccetera, eccetera. E si vede che Marte non è messo benissimo, proprio in questo punto di vista. Infatti mi ricordo che ne parlava di questo, che noi ce lo continuiamo a immaginare per questo grande errore di traduzione che c'è stato. Schiaparelli e poi longwear, che si sono gasati tantissimo, ma in realtà è rimasto. Però, in realtà, già nel 1970, si era già dimostrato che Marte era impossibile che avesse acqua liquida in superficie. Le sonde Viking, che sono le prime che ha misurato i dati, erano nel 1975, se non sbaglio. Quindi siamo andati su Marte ben consci del fatto che non avremmo trovato granché in superficie. Però, appunto, uno dice, allora sotto la superficie... Allora, su Marte il meccanismo è difficilissimo, cioè bisogna impegnarsi davvero tanto per cercare dell'acqua, per trovare la possibilità di acqua liquida su Marte, quindi conseguenza vita, eccetera. Invece ci sono altri, come dici tu, altri corpi, dove, per esempio, le lune di Giove o Saturno, dove è praticamente certa, in Selado o in Selado, a seconda di chi lo dice... Sentiamo l'estero per la pronuncia poi greca, come si va a dire. È certo che ci sia un oceano di acqua salata, per di più sotterraneo, che messo assieme è più grande in tutti gli oceani della Terra. E allora uno dice, allora, se cerchiamo l'acqua liquida e diciamo che dove c'è l'acqua liquida c'è la vita, è molto più probabile che ci sia su Enselado la vita. Il peccato è che sotto ha un chilometro e mezzo di ghiaccio, spessore, dove nella parte più sottile è un chilometro e mezzo, poi aumenta anche fino a dieci, quindici. Una cosa tranquilla, scambagnatina proprio. poi se pensi anche che uno pesa molto di meno su Enselado, quindi non riesci neanche a trapanare bene il ghiaccio e quindi diciamo è inaccessibile come cosa. Però sì, qui poi bisogna anche però fare i conti con... serve davvero l'acqua? Era proprio una domanda che vi volevo fare, nel senso, si parla sempre di acqua, ok? Si pensa anche che l'idea sia che una cometa appunto si è schiantata sulla Terra e si è sciolta, due o tre, e comunque ha fatto sciogliere e ha portato l'acqua. Io vi volevo chiedere a tutti perché l'acqua non potrebbe essere comunque un altro liquido che noi casomai trascuriamo adesso, perché ci basiamo sull'acqua, cioè il 70% della superficie è acqua, però non potrebbe essere qualcos'altro, c'è una forma di vita basata su altro? Prego, prego. Ma io penso assolutamente sì in questi termini e gli studi degli anni 50 ormai superdatati di Miller, ad esempio, la davano come presupposto, niente acqua, niente vita, no? Per cui serviva vapore acqueo, serviva un'atmosfera primordiale, come sappiamo tutti e come ci immaginiamo fosse quella della Terra, ma appunto stiamo ragionando solo sulla Terra ed è un po' riduttivo perché cosa ne sappiamo? Appunto, su Encelado, che cosa ci sia sotto questo chilometro? Ci sono forme di vita che riescono a resistere a radiazioni potentissime, a condizioni di temperatura e pressione veramente estreme che noi sulla Terra non concepiamo più, ma che magari esistevano 4 miliardi di anni fa. Bello, ma è molto interessante. Cioè, quindi, io mi ricordo in questa lezione della mia professoressa al liceo, quindi comunque siamo un pochino di anni fa. Liceo Villigelmo, ma non la tassone. Infatti, molto meglio. Allora... Stai facendo la terza media e non ascolti queste cose. Esatto, scegliete Villigelmo. Allora, potete, ma intanto ci ascoltano anche da Milano che ne sanno nel liceo Villigelmo di Modena, va bene, andiamo avanti. appunto, mi ricordo che diceva a parte l'acqua potrebbe esistere anche delle forme di vita o comunque degli organismi basati ad esempio sul silicio che ha delle caratteristiche a livello atomiche o comunque di struttura, di molecole e legami, vabbè, sempre a livello molecolare simili al carbonio. Cioè, quindi banalmente non ci serve né l'acqua né il carbonio. Tra l'altro non ci serve neanche l'ossigeno. Vabbè, ok, non ci serve niente a questo punto. Ci sono forme di vita anche sulla terra che non hanno bisogno dell'ossigeno. Noi come esseri umani pensiamo che l'ossigeno sia fondamentale perché noi respiriamo ma in realtà ci sono organismi che anche senza ossigeno vivono e stanno benissimo. Quindi, cioè, a questo punto sembra veramente che non ci sia nulla di così fondamentale da servire per un essere vivente e sopravvivere. Qua si ritorna sulla definizione di vita sono tutte condizioni né necessarie né sufficienti quelle con cui descriviamo la vita. Però, quello che dicevi tu per esempio il silicio uno dice guardate la tavola periodica sotto al carbonio c'è il silicio quindi ha gli stessi legami uno dice beh, potrebbe più o meno comportarsi come il carbonio. Peccato che essendo un po' più grossa è molto più difficile creare dei legami e molto spesso visto che c'è in abbondanza si lega appunto con l'ossigeno e volendo sulla terra noi abbiamo tantissimi esempi della chimica del silicio che sono i sassi e quindi banalmente i sassi perché i sassi sono fatti da ossidi di silicio il quarzo la metista il quarzo rosa il quarzo bianco sono praticamente noi possiamo immaginarcela come la trasposizione della chimica organica al silicio perché è fatto da silicio, ossigeno catene di silicio legate ad altre cose eccetera eccetera si sono ipotizzate diciamo delle chimiche proprio silicio che si lega con silicio che si lega con silicio eccetera eccetera mentre adesso sulla terra viste le condizioni temperatura, pressione bla 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 il silicio si lega con l'ossigeno che poi si lega un silicio e poi con l'ossigeno eccetera eccetera qui non è una vera catena però sono i cosiddetti siloassani parole difficili che bisogna googlare mi hai già perso prima però si vede che per esempio i silossani per rimanere stabili e quindi fare qualche tipo di chimica avrebbero bisogno di temperature bassissime ed essere però comunque fluidi quindi bisogna trovare un liquido che sia da solvente al silicio a temperature bassissime quindi diventa piuttosto complicata anche perché poi nella galassia di grande abbondanza di silicio di composti di silassani non se ne vede tranne in un punto del cielo dove? ma tipo una nebulosa planetaria a 13 o a 33 adesso dovrei guardare perché mi è venuto in mente adesso però c'è un punto in cui c'è molto silicio ma poi il silicio non sembra viene prodotto sì nelle super nove questo poi ci torneremo però effettivamente sì c'è più carbonio comunque anche le stelle piccole come la nostra la nostra è una stella piccola mettetevi nella mentalità che la nostra è una stella piccola e comunque riesce ad arrivare quasi al carbonio e il fatto sta che però delle chimiche diverse dall'acqua eccetera teoricamente anche la terra si è basata sull'acqua ma la chimica e i primordi è totalmente diversa da quella che c'è adesso anche perché una cosa interessante è che se noi togliessimo da terra tutta la vita che c'è e rimanessero queste condizioni non si potrebbe cioè non si riformerebbe perché le condizioni della terra e i primordi sono totalmente diverse da quelle di adesso oh interessante quindi la terra adesso la sostiene la vita ma non riuscirebbe a crearla quindi è interessante anche questo fatto da pensarci ok questo tipo questo mi manca cioè nel senso se noi siamo in laboratorio un laboratorio abbastanza grande ok siamo nella guida galattica possiamo creare un pianeta come aveva fatto quel personaggio che non mi ricordo il nome perché era troppo lungo cioè noi se mettessimo la terra con le stesse condizioni iniziali non cioè ci sarebbe molta probabilità dico con le condizioni di adesso ah scusi sì sì quindi un tempio di 15 gradi stati calde inverni così ghiaccio acqua liquida tutto quello che vuoi però non ci sarebbe tutta quella ammoniaca tutta quella adesso tutti i composti li faccio dire agli esperti che poi con i metani e tutti quegli quegli idrocarburi che con i fulmine e le saette eccetera eccetera avrebbero poi consentito la biogenesi la creazione della vita da materia inorganica quindi quindi banalmente cioè non abbiamo abbastanza composti che per noi adesso sarebbero nocivi esatto per fare la vita adesso giusto sì un'atmosfera molto diversa appunto ammoniaca metano idrogeno gassoso che comunque adesso in atmosfera non abbiamo e vapore acque ecco però molto più presente rispetto alle tracce che che osserviamo ora no e da lì l'ipotesi è della vita sulla terra no si sarebbero generati i primi amminoacidi e poi probabilmente da amminoacidi poi con lo zolfo perché questo è stato un composto aggiunto in seguito no arrivare ai nucleotidi ad esempio quindi le basi poi per avere gli acidi nucleici DNA RNA sempre ragionando per la vita sulla terra no per cui si pensa che i primissimi organismi fossero i famosi archea no e infatti questi li avevi scritti infatti ti voglio proprio ricondurre qua cioè ok archea a me è venuto in mente un pokemon di diamante perla mi sembra archeus che già il nome quindi mi riporta all'antichità che cosa sono queste cioè banalmente mi chiedo hai detto archea per me sono nomi tutti esotici questi di che cosa si sta parlando gli archea sono degli organismi che sono ritenuti probabilmente la prima forma di vita comparsa sulla terra circa 4 miliardi di anni fa organismi semplicissimi ovviamente prokaryoti unicellulari quindi stiamo parlando di organismi che potrebbero assomigliare ai batteri ma in realtà sono ancora più primitivi no e da questi poi sarebbero derivati i batteri e tutti gli altri eucarioti che siamo noi piante funghi eccetera e questi organismi essendo estremofili vanno molto d'accordo con le condizioni di una terra primordiale appunto l'atmosfera che dicevamo prima assenza assoluta di ossigeno pH molto diversi da quelli che troviamo attualmente anche condizioni della salinità no per cui situazioni che adesso troviamo in posti molto particolari della terra sorgenti termali calde pozze in corrispondenza dei vulcani cioè proprio i luoghi meno abitabili possibili sono quelli dove troviamo questi organismi sono quelli dove si è formata la vita quelli che dove adesso per dire il discorso di prima ma questo infatti per me è tutto interessantissimo già mi avete intrippato tantissimo con il discorso sulla che cos'è la vita perché derivando da fisica tu lo sai anche meglio di me noi abbiamo delle definizioni che sono quelle e basta quindi se non ti puoi girare più di tanto se si muove è qualcosa di diverso gli devi trovare un nome oppure un'eccezione quell'eccezione strana e quindi ok questi organismi unicellulari però io so ad esempio mettiamo caso cominciamo ad andare un po' in là con la fantasia mettiamo caso che noi troviamo nel sistema solare banalmente non andiamo troppo lontano qualcosa che ci faccia suggerire con un 80% di sicurezza quindi molto elevato che c'è una forma di vita il problema comunque rimane tuttora arrivare lì cioè anche banalmente andare su Marte tuttora è un problema bisogna mettersi nell'ottica di fare un viaggio spaziale di diversi mesi o anche anni però già adesso mi dicevi anche te una delle prime volte che ci siamo incontrati hanno cominciato a portare degli organismi sulla stazione spaziale per vedere uno come loro reagiscono allo spazio quindi come reagiscono in un'orbita attorno alla terra e poi successivamente casomai si può ampliare questo discorso organismi più complessi come siamo noi o anche animali mi ricordo che facevi dei discorsi sulle piante ad esempio proprio sulla stazione spaziale come mi avevi fatto questo discorso su come trovano la gravità e senza la gravità hanno un sacco di problemi queste piante esatto io mi ricordo adesso mi ricordo due esperimenti che sono molto simpatici nel senso che hanno provato a coltivare le zigne che sono questi fiori della nonna potremmo dire perché sono molto appariscenti molto colorati a forma di margheritone eccetera li hanno coltivati sulla stazione spaziale per migliorare l'umore degli astronauti così per caso uno non ci pensa mai alla psicologia dell'astronauta però stanno molto lontano da tutto ciò che è verde che noi siamo assuefatti da tutti gli alberi non ce ne rendiamo neanche conto ma sulla stazione spaziale si vede che ne sentono la mancanza e psicologicamente questo si vede che conta talmente tanto che hanno portato dei fiori là e hanno visto che proprio senza gravità loro crescevano le zigne sono anche fiorite eccetera però crescevano un po' più basse un po' più storte un po' più insomma un po' più disorientate potremmo chiamarle giustamente e un altro esperimento molto simpatico hanno fatto germinare delle conifere non mi ricordo esattamente la specie e si vedeva che quelli sulla terra tuttavia che nascevano in lotta per la competizione capivano dove era la gravità tramite dei piccoli sassolini in certe cellule già questo a me a me ha intrippato com'è che le piante sentono la gravità per favore fermiamoci un attimo se non vorrei usurpare il trono alla botanica a tutti no no questa è una domanda a tutti stiamo parlando di una delle forze fondamentali più misteriose dell'universo com'è che le piante sentono la gravità noi lo sentiamo per l'orecchio giusto l'orecchio interno però di anatomia ne sono ancora meno quindi lascio banalmente a voi come funziona cioè allora piante sentono la gravità bene lascio qua buttato a voi la parola non lasciamo in silenzio però per favore i nostri ascoltatori uno che si prenda la briga di dire allora nelle piante ci sono degli organuli nelle cellule delle piante soprattutto gli amiloplasti che sono dei sacchettini sostanzialmente che hanno delle funzioni di magazzino quindi possono immagazzinare i pigmenti possono immagazzinare appunto sostanze nutritive di riserva ma possono anche immagazzinare dei sali e in particolare dei sali di calcio e sarebbero questi questi depositi di sali di calcio a permettere la crescita in accordo con la forza di gravità quindi a dire alla pianta da che parte andare e in effetti ci sono tanti studi anche mi sembra l'exposer forse magari ricordo male che sta verificando proprio la crescita ad esempio della pianta del cotone sulla stazione spaziale internazionale e anche altre come la rabidopsis che è la pianta preferita da tutti i botanici spaziali ok perché è questa pianta preferita sentiamo perché è una pianta che conosciamo molto bene a livello del genoma è una pianta che si riproduce con molta facilità semi piccoli si trasportano bene facili da portare sulla stazione spaziale corrispettivo del moscerino della frutta e ha dei semi fantastici perché sopravvivono molto bene ad esempio alle radiazioni quindi anche per quello c'è nel senso come è possibile mettiamo gli semi da trasportare anche in un futuro viaggio spaziale quindi anche lasciandoli che ne so all'aperto proprio all'aperto della nostra astronave si possono lasciare per esempio prendono aria prendono un pochino di A un po' di raggi cosmici cosa vuoi che siano ovviamente lo trasporti vabbè ti dicevo che questo esperimento qua dopo appunto con questo meccanismo con cui le piante sentono la gravità ci sono questi sacchetti che toccando appunto le pareti di solito attivano certi segnali quindi gli ormoni papapam e la pianta è tecnico proprio papapam sono gli ormoni che vengono sparati è stato bellissimo ma mi piace e invece quelli sulla stazione spaziale erano dei e vedevi queste piantine questi sembravano proprio degli apici di rami di pino che non sapevano dove crescere perché questi sassolini levitavano mi immagino nelle cellule non premevano da nessuna parte non veniva prodotto l'ormone per allungare il fusto e quindi loro cosa facevano rimanevano lì avevano tantissimi aghi vedevi queste palline di aghi che erano molto più densi quindi ci sono questi due esperimenti molto simpatici ma poi sulla stazione stanno coltivando ovviamente l'insalata i cavolfiore e tutte le altre cose per poi mangiare perché essenzialmente l'interesse principale poi è quello anche i peperoncini a proposito di rallegrare l'umore perché i peperoncini rallegrare hanno portato i semi e adesso sono riusciti a farli germinare sulla stazione spaziale e hanno coltivato e raccolto i primissimi peperoncini perché ovviamente il cibo astronauta è un cibo tragico e quindi per dare un po' di come dire di gusto e di sapore sono riusciti anche in questo quindi in prospettiva come dici chissà che cosa coltiveremo e quando è interessantissimo perché praticamente si sta rivivendo l'agricoltura però sulla stazione spaziale cioè fra un po' mi immagino la rotazione biennale la rotazione biennale valvassari valvassini valvassori tutti si ripartano dall'inizio se vede la gleba sulla stazione spaziale perfetto quindi ok cominciamo con le piante e già qua nascono i primi problemi sono gli esseri più misteriosi dell'universo come dicevi tu prima la forza più misteriosa dell'universo è la gravità gli esseri più misteriosi sono le piante se vogliamo fare il paragone davvero perché immaginavo comunque oggetti organismi più complessi come noi piante nel senso che le piante sono l'essere vivente complesso più lontano da noi che ci possiamo quindi che ci possiamo immaginare quando capiremo bene le piante a fondo tutta la sua biochimica saremo a buon punto anche con la ricerca della vita sì perché noi siamo un po' umano centrici nel cercare la vita invece le piante sono un modello di vita molto più di successo rispetto ai modelli animali quindi comunque anche mettiamola cercare ok cercare piante credo che sia già un passo elevatissimo nel senso se troviamo delle piante su un altro pianeta proprio così no però mi interessava perché appunto pensavo non tanto per la psicologia quanto per partiamo da organismi più semplici vediamo come funzionano e poi da lì partiamo se proprio dicevo partiamo da livello zero e poi vediamo come stanno il mondo prima si cercano gli archei che c'è la prima professoressa c'è dei piccoli organismi unicellulari si cerca quello lì e il come si cerca ovviamente essendo molto piccoli non abbiamo le foreste di archea da scoprire sui pianeti ora mi immagino piano piano la stazione spaziale che diventa completamente verde immagino da dentro poi verso il fuori c'è il film dove piantano le querce su quest'astronave che film è? non mi hai visto? se lo dicevi prima mi portavo il nome dai che ci sono questi due che si sveglia uno che si sveglia sveglia anche lei e poi ah cos'è? il passenger non l'ho visto? che uno mette una ghianda nel pavimento di un'astronave e questa querce diventa non si sa come secolare perfetto proprio c'è una cosa tranquillissima intercappelli di terriccio in questa strada beh comunque appunto si cercano questi batteri come dicevi tu cercare però i batteri di archei non si può andarli con il microscopio bisogna andare a cercare io dico solo il primo approccio che hanno usato appunto nelle sonde viking se non sbaglio avevano messo nelle sonde nei lander più che altro dei piccoli scatolotti con del cibo e li hanno messi all'esterno della sonda aspettando che qualcuno venisse a mangiarli e hanno misurato e hanno misurato però come hanno fatto a capire se c'erano degli organismi che stavano popolando queste vaschette hanno misurato i gas che venivano prodotti cosa ci riporta la tecnologia che si usa per cercare la vita e cosa hanno visto che in questa scatolotta appena l'hanno messa fuori c'è stato un picco di gas prodotti e poi è andato a scemare e questo non è un pattern biologico nel senso se ha una reazione chimica che poi scema è banalmente chimica morta se invece avessero visto un gas che incominciava ad essere prodotto e poi aumentava nel tempo in modo stabile e poi magari aumentava ancora sintomo di magari indizio di riproduzione di certi organismi allora lì si poteva dire che erano venuti degli organismi in queste vaschette e adesso diciamo uno dei metodi che si riguarda con più diciamo come dice mi interessa sono proprio i gas planetari guardando l'atmosfera dei vari pianeti delle varie lune o particelle anche non atmosfere dense anche in celado i gas i geyser che vengono fuori dai geyser che sono acqua e altri composti altri sali comunque si guardano tutte queste molecole per capire se sono prodotte da organismi guarda mi è proprio anticipato una domanda che volevo fare nel senso negli ultimi anni perché poi cos'è tipo dal 2015 14 che c'è stata l'esplosione dei pianeti extrasolari quindi esopianeti esopianeti va bene scusatemi detto così sembra che siano esplosi tutti con la morte nera esatto se ci fosse stata la morte nera forse l'avremmo visto con più facilità però appunto quindi si vanno innanzitutto a cercare questi esopianeti già qua difficile cercarli perché ho studiato un pochino i telescopi che li cercano e andare a riuscire a trovare questo calo della luminosità quando passa davanti alla stella non è una cosa poi semplicissima soprattutto perché la stella rispetto a un pianeta è gigante quindi è un pochino un problema e poi mi dicevi proprio dell'atmosfera quindi di cosa si va a cercare nei pianeti quindi come prima cosa atmosfere cerchiamo immediatamente delle biomarcatori ecco mamma mia sapete veramente tantissimo biomarcatori non si cerca tipo qualcosa a livello più base pensavo proprio alla chimica tipo ad esempio ossigeno acqua ah beh no effettivamente mi avete detto che non ce n'è bisogno quindi biomarcatori perfetto mi sono corretto da solo già fatto non c'è mica nessun problema quindi questi biomarcatori che cosa sono come cerchiamo come si sta evolvendo perché tipo ogni anno anzi ogni mese ormai vengono scoperti una decina venti trenta sempre nuovi esopianeti perché ormai le tecnologie stanno andando avanti e c'è una sensibilità esagerata per questi rispetto invece al 2015 quando il primo trovato è stato è stato sempre così ma è sempre così il primo come il primo il 51 il 51 il 51b è la primo non lo so quindi io lascio te la parola quindi no no parlatemi un attimo di questi biomarcatori cioè ok cosa si cerca beh sempre noi si cercano per favore non so se incomincio io ne dico ok va bene poi facciamo un giro mi piace in generale un biomarcatore è qualcosa che se c'è è perché è stato prodotto nel recentissimo perché nel senso se trovo anidride carbonica anidride carbonica è lentissima a reagire con le rocce oppure a dissociarsi nell'alta atmosfera quindi se c'è può anche darsi che si alleda molto tempo non è non è questione di tipo su Marte Marte è pieno dell'anidride carbonica però non è questo che non è che ci stiamo stupendo che ci sia la vita eccetera viene prodotto continuamente dai vulcani perché il carbonio e ossigeno è contenuto nelle rocce quando quando poi le rocce scendono nel nucleo del pianeta o nel mantello del pianeta si formano delle bolle di gas l'anidride carbonica viene fuori dai vulcani quindi quello non ci dice niente l'ossigeno invece è molto reattivo quindi appena c'è un po' nell'atmosfera reagisce subito con le rocce fino a un certo punto quindi se c'è tantissimo ossigeno questo reagisce tutto con le rocce poi o finiscono le rocce con cui può reagire e quindi ne avanza nell'atmosfera ma a quel punto potrebbe fare tipo l'anidride carbonica CO2 oppure potrebbe fare l'ozono l'ozono O3 quindi l'ossigeno può essere un biomarcatore ma sotto certe condizioni insomma perché appunto dopo che ha finito di fare tutte queste reazioni chimiche se noi ne troviamo ancora in abbondanza come sulla terra che ce n'è il 21% dell'atmosfera e di ossigeno vuol dire che c'è qualcuno che lo sta producendo in continuazione quindi che rifornisce costantemente esatto e quindi non fa in tempo a reagire con le rocce non fa in tempo a reagire con niente e poi per esempio il metano mi viene da dire prego prego se volete perché mi sta interessando cioè io appunto non sapendo niente di questa cosa mi intripa tantissimo e altri biomarcatori quindi come il metano il metano è idrocarburo il più semplice dell'idrocarburo va bene perfetto non ho fatto proprio una figura è un alcano va bene va bene va bene quindi praticamente è molto anche questo è molto instabile nell'atmosfera si dissocia velocissimamente con i raggi del sole vuoi per i raggi del sole oppure per altre reazioni chimiche nell'atmosfera o con le rocce e quindi appena ce n'è un po' questo scompare immediatamente è interessante la terra non si cerca tanto qualcosa che sia ancora presente quanto se ci sono delle variazioni in questo anche se ci sono delle variazioni bisogna poi vedere come sono queste variazioni se ci sono degli altri meccanismi che potrebbero produrle famosissimo il caso di Marta appunto si ritorna sempre il dito nella piaga che appunto si vede che ci sono delle grandi come dire emanazioni di metano che fino a poco tempo fa era totalmente misteriosa non si sapeva solo un'attività microbica avrebbe potuto giustificare questo grandissimo accumulo di metano tra l'altro in primavera proprio come se fossero degli organismi che sentono una bella stagione e appunto attivandosi si replicano vivono producono metano poi questo metano andava a scemare nel corso dell'anno e anche sulla terra il metano è prodotto tutto il metano che c'è è prodotto da decomposizione e animali di grossa taglia beh fatto sta che su Marte poi hanno provato a dare un'altra spiegazione potrebbero essere dei cosiddetti clatrati che sono gabbia di molecole con dentro un atomo una molecola di metano che con la primavera con il disgelo queste gabbie si aprono lasciando uscire il metano quindi potrebbe esserci da poco c'è un'altra spiegazione però resta di fatto che ce n'è davvero abbastanza non tanto perché comunque non ce n'è non è un'atmosfera ricca di metano però insomma questo è un altro biomarcatore degno di nota e quindi comunque con questi biomarcatori sempre microrganismi piante anche oh dico piante metano principalmente metanogeni quindi torniamo lì ai nostri amici batteri ok quindi a parte una domanda non so questa è proprio completamente fuori però è stata notizia dell'anno scorso mi sembra quando hanno trovato la fosfina su venere ok mi ricordo anche fosfina quindi c'è mamma mia e anche questo qua mi ricordo che si è gridato al miracolo c'è vita oddio abbiamo trovato io mi aspettavo già di vedere dei dinosauri sulla superficie di venere quando effettivamente poi si è spento tutto nell'arco di una settimana tipo è passato diciamo che siamo ancora lontani da trovare effettivamente qualcosa diciamo che il metodo con cui hanno cercato questa fosfina non ha convinto molti scienziati che hanno fatto degli altri articoli per smartenare in testa se vi chiedo un piccolo approfondimento sulla fosfina c'è un senso tipo così qualcuno sa niente no andiamo l'unica cosa che potrei sapere è che il fosfato fa parte dei nucleotidi no nucleotidi sono i fondamentali cioè quelle molecole che costituiscono il dna e l'rna quindi il dna è il nostro patrimonio genetico e fondamentalmente quello che scrive cosa siamo quindi sì è stata una notizia che anche a me personalmente mi ha un po' cioè sono rimasta molto sbalordita da questa cosa poi ho visto che non che l'hype è sceso e quindi ho detto vabbè mannaggia non ci siamo peccato il fatto è che la fosfina insieme poi abbiamo scoperto la fosfina ma su venere erano state dimostrate anche esserci degli altri molecole a forma di anello sempre a base di fosforo che appunto in certe condizioni cioè incastrandole a modo avrebbero potuto formare dei gusci resistenti all'acidità dell'atmosfera e quindi uno dice beh scusatemi se io fossi l'evoluzione naturale su venere la selezione naturale su venere avrei selezionato degli organismi capaci di sfruttare la fosfina e queste altre molecole di fosforo per proteggersi dall'acidità e questo è quanto poi ovviamente considerando che venere una volta avendo vasti oceani per un periodo di tempo abbastanza lungo da garantire la biogenesi da garantire una parola grossa però da poter permettere la biogenesi sicuro adesso e quindi come sappiamo bene se le condizioni climatiche cambiano pian pianino la vita cambia anche lei pian pianino e quindi c'è questa teoria secondo cui piccole organismi unicellulari formatesi nel brodo primordiale sul venere pian piano siano migrate seguendo le condizioni favorevoli fino a una cinquantina di chilometri di quota dove c'è un'atmosfera di pressione 20 gradi centigradi protezione dalle radiazioni quindi c'è proprio le condizioni che con questi con questi gusci di fosfina anche si sarebbe protetti dalla dall'acidità quindi proprio sembra esserci la una seconda terra in questo sottile strato di atmosfera proprio adeguata alle condizioni di vita che reputiamo essere appunto che reputiamo essere quelle idonee per vivere anche perché una cosa che mi è venuta in mente parlando adesso e che io ho sempre cioè mi è sempre stato insegnato poi non so magari sto sbagliando io che l'ambiente ha un grande impatto sugli organismi quindi sì ok ci sono condizioni in cui la vita può esistere però anche l'ambiente fa sì che la vita si sviluppi in una certa maniera quindi non è detto cioè magari un altro pianeta influisce su quelle molecole che ci sono e le fa diciamo trasformare in un altro sì sì cose sulle molecole che sulla terra non servirebbero a niente su altri pianeti possono diventare fondamentali perché l'ambiente ha un impatto molto molto grande su sugli organismi o comunque su qualsiasi cosa che vogliamo intendere come essere vivente ma ok adesso abbiamo parlato un po' di pianeti quindi tutta questa cosa qua è bella però nel senso noi siamo comunque bloccati sempre da un grandissimo problema ovvero troviamo della vita mettiamo che troviamo della vita in un altro pianeta noi siamo comunque limitati dalla velocità della luce nel caso in cui riusciamo a costruire delle navi che vanno a velocità di curvatura cioè la velocità della luce o comunque una velocità molto inferiore quindi bisogna mettersi primo nell'ottica di passare anni se non decenni se non generazioni su delle navi e soprattutto delle navi che siano indipendenti giusto? cioè che siano che ci sia qualcosa che sostenga su queste navi sì ci sono beh potrei dire due cose la prima cosa riguarda il progetto starlight della nasa dove non so se sapete stanno costruendo queste mini 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 navicelle che pesano pochi grammi per spedire nello spazio quindi oltre il nostro sistema solare appunto vermi ad esempio un nematode anche questo studiatissimo oppure ancora tardigradi ma anche ad esempio alghe che sono degli organismi anche questi molto interessanti per tante teorie sullo sviluppo e l'evoluzione della vita e poi c'è un altro problema invece molto più pratico cioè che cosa coltiviamo come coltiviamo non si può non si possono portare pannocchie quindi sulla direttamente sulle navicelle non si può guarda ma diciamo che le piante come appunto era venuto fuori prima sono degli organismi molto misteriosi ma hanno anche le strutture in assoluto più resistenti che conosciamo che sono i semi i semi cioè nel senso cioè quelli che io metto nel pop corn per farmi ad esempio quelli lì sono resistenti sì molto resistenti ad esempio hanno portato sempre sulla stazione spaziale i semi di convolvolo che sarebbe la bella di giorno e li hanno lasciati per mesi all'esterno della stazione se li erano dimenticati dove li abbiamo messi questi semi e li hanno riportati sulla terra e questi sono germinati senza battere il ciglio quasi al cento per cento ma questo per una struttura esterna o per il fatto che non so come dire non sono organici in quel momento tutte e due ti immagini approfondiamo ti immagini di essere un seme per esempio facciamo questo viaggio nel posto peggiore della terra per una pianta il deserto dell'Atacama ok tanto ci vanno anche i fisici quindi proprio i fisici sono semi un posto dove una pianta non vorrebbe essere il deserto dell'Atacama però fatto sta che ogni 5-10 anni c'è il fenomeno del deserto florido dove basta uno sputo di acqua che piove e si colora tutti i tantissimi fiori piante bulbi e chi più ne ha più ne metta beh la maggior parte di quelle sono dei semi che rimangono lì e come fanno a sopravvivere a quell'ambiente che c'è 20 salini che vengono e quindi tutta la tensione superficiale del seme ci sono tutti dei meccanismi fisici per cui la permeabilità del seme della cuticola sono tutti meccanismi che col sale vanno un po' a farsi friggere poi le radiazioni solari il sole è sempre a picco non essendoci e poi il vento l'umidità è bassissima quindi condizione davvero estreme per i nostri semi poveretti però loro comunque devono evolversi per resistere a queste condizioni e mettere in atto dei meccanismi che a volte sono fin troppo di successo esatto per andare ah questo è interessantissimo c'è proprio prego 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 sì ci sono delle molecole proprio nel rivestimento esterno del seme che sono i flavonoidi che dovrebbero dire flavonoidi ma che bei nomi capite voi e creano praticamente uno scudo uno scudo spaziale a tutti gli effetti e l'altra questione è ancora lì questa fase quasi di pseudo morte per cui in realtà i semi non sono né vivi né morti e torniamo a che cos'è la vita il seme è vita questo è bellissimo è una previta e io so di un altro grazie a Barba Scura perché ho visto questo suo video quindi anche lui un buon divulgatore mi ha preso che da quello che ho capito si trova in uno stato di premorte anche di riorganismi un pochino più sviluppati come i maialini di mare sì io volevo fare una domanda sui tardigradi quindi ne volevo parlare adesso l'ho buttata dentro a caso completamente ma ne sono contentissimo quindi questi riescono a diventare dei semi praticamente tutti i biologi all'ascolto sono morti in questo momento abbiamo perso tutti i biologi proprio no no sono dei semi animali praticamente loro vanno sono notissimi per fare questa criptobiosi quindi per resistere a condizioni decisamente estreme non sono i soli diciamo che adesso i tardigradi vanno molto di moda per cui li troviamo un po' dappertutto ma appunto dicevo ci sono anche dei vermi che sono degli organismi molto interessanti di cui abbiamo mappato tutto il genoma sappiamo veramente tanto e questo quello che ha fatto voi non potete vedere però è stato proprio un'indicazione alla salva è vero è vero e quindi sappiamo molto sappiamo molto conosciamo anche le reti neurali riusciamo a studiarli benissimo questi vermetti e anche questi resistono molto bene a condizioni estreme meno bene alle radiazioni mentre i tardigradi i tardigradi sono un passo avanti sono più anche poi i tardigradi si trovano tipo cos'è nel muschio nei bichini si trovano in qualsiasi pozza d'acqua tranquilli proprio c'è troviamo questi esseri potentissimi nelle pozze d'acqua buttatevi ma va bene la biologia mi sta sorprendendo ancora di più però non lascerei mai la fisica ma va bene beh ma anche senza andare cioè senza andare possiamo anche spingerci oltre perché i tardigradi i nematodi eccetera sono molto piccoli e uno può usarla scusante che per esempio il tardigradi si disidrata tantissimo e poi comunque vivendo in pozzangra l'acqua prima o poi l'acqua torna e quindi ci sono gente che ho sentito dire ah beh il tardigradi è gonfiato invece è molto resistente beh effettivamente si gonfia quando arriva la questione è un meccanismo diciamo nel momento in cui tu disidrati tantissimo blocchi tutte le le tue funzioni tutto il tuo metabolismo e quindi diciamo tra virgolette è facile resistere a tempo determinato ci sono organismi però molto più complessi che non possono disidratarsi un caso noto che so è per esempio una rana del nord america che d'inverno praticamente muore perché con l'arrivo del freddo è un anfibio quindi non è super resistente una pelliccia non ha niente aumenta tantissimo il glucosio nel sangue in modo che il ghiaccio non strappi i tessuti poi mi amano che il ghiaccio la ricopre il cuore batte sempre meno il cervello pensa sempre meno poi il cuore si ferma il cervello si ferma e clinicamente è morta la rana e rimane lì hanno fatto l'esperimento lei di solito rimane così per sei mesi l'inverno del Canada del nord america ma potrebbe rimanere così anche un anno nei sei mesi hanno visto che potrebbe rimanere ghiacciata a un tempo estremamente lungo se si pensa a un anfibio che è un essere complessissimo e quindi nel senso ci sono delle possibilità che anche cose molto più complicate di singoli cellule o poche centinaia di cellule o migliaia nel caso del tardigrado possono resistere a condizioni estreme allora siamo arrivati alla fine quindi non vi tengo oltre però vi faccio due domande un pochino così un pochino a scelta libera mettiamo uno se secondo voi siamo soli in questo universo in questo universo intendo anche soltanto relegato alla nostra galassia mettiamola non andiamo troppo lontano e due se voi aveste fondi illimitati che esperimento vorreste fare o che sonde vorreste mandare che astronavi vorreste costruire per cercare della vita nell'anno nella nostra galassia appunto teniamoci alla nostra galassietta poverina già qua secondo me possiamo discutere in abbondanza partiamo sì dai partiamo io rispondi prima che è facile nel senso che esiste una risposta impacchettata dalla scienza appunto tu hai presentato il paradosso di Fermi in qualche maniera dove sono tutti se l'universo è pieno di vita la risposta è un altro paradosso dell'isolotto galattico a seconda delle traduzioni io la sapevo così comunque il fatto che potrebbe essere che l'universo sia pieno di vita potrebbe essere che sia vuoto di vita il fatto sta che potrebbe anche darsi che essendo che le stelle si muovono nello spazio e quindi la vita si muoverebbe con esse nello spazio che motivo avrebbe un'eventuale vita oppure che probabilità ci sarebbe che un'eventuale vita su queste stelle dovesse capitare sul nostro sole o per un motivo nel senso che gli convenga venire qua oppure a caso nel senso se due stelle passano vicine magari con le teorie della panspermia o cose del genere potrebbe capitare della vita ebbene se il sole si trovasse molto distante da tantissime stelle tutte quelle abitate e mentre queste altre stelle si trovassero tutte vicine tra di loro allora la vita e tutto quello che potrebbe scambiare di sistema solare in sistema solare si scambierebbe solo tra quelli vicini tra loro e lascerebbero fuori il sole magari in passato eravamo più vicini a una certa stella potrebbero essere stati degli scambi chi lo sa questo non è dato a saperlo però nel senso bisogna proseguire con la ricerca sì nel senso c'è questo questa è diciamo una risposta quando l'avevo trovata era molto ti aveva preso molto sì 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 no è molto sensato prego è la tua idea puoi anche dire no per me non c'è niente già banalmente oppure è un esperimento che vorresti fare che ne so mandare anche te dei tardigradi in uno spazio perché i scienziati sono pazzi quindi hanno fatto anche quello mi ricordo ma io da biotecnologa non l'astrobiologia mi affascina di più come l'essere umano reagisce fuori dalla terra quindi io non cercherei più forme di vita esterne ma cercherei di capire come l'essere umano può vivere al di fuori della terra e quindi sì queste domande a queste domande non ho delle vere risposte perché mi affascina di più certe cose del nostro corpo all'esterno della terra perché comunque c'è la terra è un piccolo granellino e chissà che cosa ci potrebbe aspettare quante possibilità potremmo avere su altri pianeti noi già come esseri umani quindi l'uomo come colonizzatore casomai di altri pianeti ma anche solo per migliorare le nostre condizioni perché non possiamo sapere no molto prego Cinzia ma io aggiungo in realtà un altro fattore cioè il fattore tempo oltre a c'è vita sulla nostra galassia no oltre quella che conosciamo noi quindi magari c'è stata vita ed è finita la vita o magari ci sarà la vita tra non so qualche miliardino di anni e noi con la nostra piccolezza non vedremo nulla quindi non penso che sia solo una questione di spazio o anche una questione di tempo no questo ritrovare delle molecole molto abbondanti chissà magari moltissimo tempo fa c'è stata la vita e noi l'abbiamo persa nella teoria dell'isolotto galattico tra l'altro c'è questo concetto del fatto che anche se è una stella che sta venendo verso di noi quindi magari tra un miliardo di anni potrebbe esserci un qualche scambio è messo in conto che la vita su un pianeta duri la vita intelligente poi in questo caso perché la teoria sulla vita intelligente duri totte milioni di anni e quindi automaticamente c'è una piccola finestra temporale in cui potrebbero esserci questi questi scambi e quindi potremmo accorgerci della vita che passa vicino a noi entro strettissime finestre temporali questa idea è interessantissima ormai mi sono messo nell'ottica di ragionare in miliardi di anni effettivamente per me milioni cominciano a diventare un battito di ciglia effettivamente questo potrebbe essere un problema benissimo signori siamo arrivati alla fine della puntata io vi chiedo di fare un saluto ai nostri ascoltatori prima di salutarci effettivamente quindi cominciamo anche qua da chi abbiamo finito quindi Cinzia prego se vuole dare un saluto ai nostri ascoltatori allora grazie a tutti per aver seguito questo podcast personalmente è stata una bellissima esperienza questa mi fa molto piacere prima volta per me grazie a tutti venite al planetario ole prego io mi accodo a quello che ha detto Cinzia e aggiungo anche che non solo la fisica ma anche la biologia è molto interessante quindi se venite al planetario interessatevi anche della biologia perché è stupenda prego prego no no fisica e biologia ma tutto interessatevi di tutto perché volevo dire in astrobiologia se uno ha delle manchevolezze su qualcosa poi casca subito e ci vediamo la seconda puntata che adesso convincerò per me molto volentieri anzi a fare delle puntate di approfondimento quando e come volete anche perché così non le devo preparare io non mi spostare i foglietti per favore mentre dobbiamo chiudere la puntata allora adesso io saluto e poi adesso arrivo benissimo anche questa puntata è arrivata alla fine io spero che vi sia piaciuta noi anzi visto che siamo qua facciamo un po' di pubblicità che non so mica riuscito a farlo prima quindi noi ci trovate sempre sul sito sui social anzi il signor Lorenzo Pelloni è quello che governa i social quindi se scrivete qualsiasi cosa lui vi vede è tipo il grande fratello si sono ancora qua gli ospiti benissimo noi ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata io vi invito a mettere mi piace a seguirci sui nostri social e noi ci vediamo prossimamente ciao